L'aprile sono usciti sei cd, sei cd di sei ragazzi, cioè noi, i ragazzi di amici è uscito dal mio primo lavoro discografico, si chiama Ogni stat che vivrai e contiene quattro canzoni scritte da me e altre tre scritte da tre autori famosi, insomma, da altri autori e io mi sono ritrovato in veste di interprete il mio primo singolo estratto da questo cd si chiama Non ti muovere e l'autore è Andrea Mati un bravissimo autore, ha scritto per Neck e per altri e il brano si chiama Non ti muovere, il mio primo singolo e adesso ve lo faccio ascoltare E te questa sera ti parlo, dicendo dalla finestra, persone per le strade Fermi qui, seduti in mezzo a un'altra estate Lasciamo ciò che resta di nostre passate E non pensiamo a quello che verrà Guardami, voglio vedere se sei tu Quella che vorrei, non se ne andassi più Andiamo, dai, facciamo questo lungomare Fino a scomparire, senza telefonare Che qualcuno poi ci troverà Se il tempo ci cambierà Resta ferma ancora qua Non ti muovere Una fotografia E ci farà volare via Fino a questa notte Io e te Sotto il cielo da guardare Riflessi in due vetri E tutto il mondo è Sotto il cielo da guardare 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 E da una casa a voci Cammate le visione Io questo finisco come finirà Se il tempo ci cambierà Sotto il cielo da guardare Sotto il cielo da guardare Tu avrai Un brivido che sei E so E tu dimmi che sarai La stessa che c'è qui con te Grazie a tutti.